Ciao, sei sotto i 20 anni e ti piace fare skin care? Voglio proprio parlare con te. Stiamo parlando direttamente sul mio divano perché è proprio una chiacchiera tra amiche. Non voglio né darti consigli né dirti chissà che cosa, però questa cosa qui l'ho imparata nel tempo, è importante. Vediamo tantissimi video super virali di prodotti, ok? Ragazza, la cosa bella della tua gioventù è che non hai bisogno di fare chissà quale tipologia di skin care, anche se la pelle ha tendenza acneica. La cosa migliore è detergerti il viso la mattina e la sera e utilizzare, non riesco a parlare, vabbè, comunque è un discorso tra amici, quindi ci sta, l'acido ialuronico, basta. Tutti i prodotti che vedete, eccetera, avete la fortuna di non doverli comprare anche perché costano un sacco di soldi e non vi servono. Avrete tempo per utilizzarli, non usarli. Per il make up, fai quello che vuoi, non sono qua per dirti niente. Però, cosa importante, struccati. Struccati sempre!